Grazie Presidente, ne userò molti di meno perché voglio lasciare spazio agli altri e agli emendamenti e agli ordini del giorno. Io volevo ringraziare il collega Angelucci e tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questo importante regolamento e vorrei far notare che è importante soprattutto perché si occupa dei diritti dei bambini disabili che stanno nelle scuole. Quindi è un grande e un importante passo avanti in un ambito in cui non c'era regolamentazione, in un ambito in cui non c'era come ha fatto notare anche l'assessora un'omogeneità di servizio ma quello che a noi preme di più è che si punti non solo alla distribuzione equa del servizio su tutto il territorio con delle modalità ben precise ma anche che venga effettuata, e questa è una novità, è regolamentata attraverso questa importante delibera il monitoraggio della qualità del servizio perché fare le cose e poi non controllare come sta andando il servizio e quindi non poter porre rimedio è stata una delle gravi pecca che abbiamo trovato su molti ambiti. Quindi io rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che in questa delibera che è stata corale hanno partecipato e volevo veramente dire che stiamo facendo un enorme passo avanti. Grazie.